Finanze, banca ed etica, primo forum anti-usura bancaria a Palermo, ci riferisce Monica Panzica. Al via il primo congresso del forum nazionale anti-usura bancaria, che punta ad un modello di banca innovativa proiettata alla tutela dei consumatori e dei contribuenti. Uno forte alle conseguenze negative dell'attuale sistema finanziario, che secondo il presidente nazionale del forum, Domenico Scilipoti, promette buoni investimenti, ma riserve in realtà difficoltà e vessazione ai cittadini. Una situazione complessa dell'economia internazionale, ribadita questa mattina dal presidente regionale del forum, Giuseppe Marino. Il consumatore va tutelato in questo particolare istante ancora più di prima, perché siamo in un momento molto critico per l'economia globale e quindi il consumatore va ancora più tutelato perché in questo momento il sistema bancario sta restringendo ulteriormente le maglie del credito. I provvedimenti da adottare sono semplicissimi, però incontrano l'ostacismo del sistema bancario che non intende mollare le sue vecchie tradizioni. Praticamente i provvedimenti da adottare sono quelli di portare più credito al consumatore e alle imprese, diminuire il sistema delle garanzie e finanziare tutte quelle famiglie e quelle imprese che hanno bisogno per far ripartire l'economia. Il nostro Presidente... Il nostro Presidente... Il nostro Presidente...